2 1 bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi faccio questo video brevissimo per tutti quelli che dicono xyuder ma come cacchio fai ad avere la skin aviatore ragazzi guardate la nuova skin aviatore ragazzi guardate che meraviglia l'abbiamo vista ieri e oggi ce l'abbiamo disponibile con tanto di backpack ragazzi è meravigliosa è una skin epica si chiama compagno di volo per la precisione ragazzi ottenerla è molto molto semplice dovete semplicemente ragazzi recarvi nel negozio e qui nella parte di sinistra di fianco a 1000 v bucks ci sarà il nuovo pacchetto con la skin aviatore al modico prezzo di 4,99 euro che vi consentirà di avere anche 600 v bucks io vi consiglio di prenderla perché secondo me merita merita veramente tanto è molto molto carina ci sta ci sta beh ragazzi spero di avervi delucidato su come prendere la skin aviatore noi ci vediamo in live ciao ciao